Un'interrogazione sull'ennesima proroga all'azienda Cipressi che si occupa dei servizi cimiteriali, ma la critica del capogruppo in comune a termine del nuovo centrodestra Antonio Di Brino si estende alla gestione in generale dell'amministrazione sbrocca e all'uso eccessivo che viene fatto delle proroghe e dei contratti in tutti i servizi pubblici, dall'acqua alla cura del verde, dalla raccolta rifiuti alla mensa. Proprio sulla gestione della mensa Di Brino solleva presunte anomalie sull'idea dell'aggiunta di appaltare il nuovo servizio attraverso un project financing. In due commissioni consigliari si è discussa la proposta della stessa ditta che ora ha in appalto la mensa, la Cirfood, di realizzare in zona artigianale un centro unico di cottura che resterebbe al comune in cambio di una gestione del servizio per 20 anni, ha spiegato Di Brino che sostiene di non aver ancora ricevuto gli atti che ha chiesto già più volte e di essere pronta a presentare una denuncia dettagliata alla Corte dei Conti. Mi sembra l'amministrazione della prorogazio, tutti i servizi sono in proroga, non vengono espletate effettuate evidenze pubbliche, ci sono servizi che hanno più di una proroga in contrasto con quella che è la circolare dell'ANAC che prevede che le proroghe se non giustificate potrebbero determinare dei profili di illegittimità addirittura di danni erariali e quindi mi sembra che sia una gestione molto approssimativa che riguarda sistemi fondamentali, servizi fondamentali. Un'amministrazione che ha scelto l'immobilismo in una città che ha prima determinato a bloccare ed oggi ci troviamo di fronte anche a gestioni che per il passato e per il presente non vanno bene come quelle della raccolta dei rifiuti. Di Brino ha poi fatto notare come la stessa relazione dell'autorità nazionale anticorruzione a firma di Raffaele Cantone abbia rilevato come ci sia un abuso di proroghe nei servizi delle pubbliche amministrazioni che oltre a configurare un danno erariale provocano anche una distorsione di mercato.